Ed ecco qua un'altra chiave Che bello tutte le vene sulla testa pelata dio mio Avrei voluto un'ultima weapon qui però vabbè dai Il portafortuna ci sta bene Che è quella che hai tu? No, non è quella, deve essere creata Kingdom Hearts, come to me Now Sora, darkness and lights, fire, trash Mamma mia sta scena però Riusciremo a collegarci col cuore di Kairi? Kairi! You require motivation Eh, a quanto pare E l'ultima chiave è stata forgiata Madonna mia Ah, l'ultima la usava Topolino Ecco Stopga usava lui Non me lo ricordavo Your majesty Riku Now the Keyblade War will finally reach its conclusion Eh, si proprio Open Eccolo lì Eccolo lì Il Keyblade forgiato Ah, il Keyblade è completo Kingdom Hearts I call upon your true form Open now And show me the world's income Mamma mia Quando ho visto tutte ste scene Per la prima volta Ero emozionato Adesso sono Stracontento di rivederle Perché è bellissimo Tutto questo Però porca troia Volevo di più Si poteva avere di più Si può fare di più Lo so Lo so Lo so Lo so che si può Oh Tirati giù Cuffi Mamma mia Che cattiveria È vero Topolino dov'è? Riku È vero Dove erano loro? E questo ormai Si sapeva Uh-huh Then how do we get her back? We've still got one hope Your majesty Riku Are you okay? We're fine Yeah Che belli Vestiti nuovi Di Topolino però Tra l'altro Mi piacciono un sacco È Xehanort Durante il marco Di testo di mestri Abbiamo aprenduto Che può Transcendere Spesso e tempo Uh-huh È un portal E possiamo Usare Questo Per Trapparlo Hm Ma Non sarà facile Aqua Riku Perché sono maestri Loro Perché sono maestri loro Vedete se mi pare un po' incazzato Io faccio Lo faccio Cosa? Kingdom Hearts È una molto più grande Treda Lasciami Handicare Xehanort Mentre Voi Stavate 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 Ok, Sara. Ho capito! Non ci ricorda di noi! Sembra le piazzate? Non sembra che ci saranno molto aiuto qui. Senza Keyblade siete dei mostri Santo cielo voi Tutti per uno E uno per tutti E lui è ancora lì fermo tranquillo Come se io non gli fregassi niente Sora Oh Hey La musica di Xion in pianoforte Lenta e lenta Oh come ti si fa Ad odiare La gente che non capisce un cazzo Di quanto sei patata Io ti amo Belli tutti quanti Do it Fippo incazzato Quindi la battaglia finale ha finito Ma Kairi non è ritorno Anche se continuo la procura Con il mio pasto Non lo troverò Che devo fare? Kairi Onde sei? Vediamo Chi sarà il collegamento Questa volta In chi entreremo Master Xehanort Come portale Forse Quella madonna Che trapasso Eh si entriamo anche noi nel portale In pratica Beh Praticamente stiamo facendo lo stesso viaggio Insieme a noi stessi Solo che noi usiamo il portale Forse in un altro tempo Non è detto un altro tempo Ma magari In un momento diverso E direi eccoci a scala Edka Elum Bella come sempre Tutta bella pulita La Sardegna praticamente Bella Beh Se sei lì Ora si Ha funzionato Ok Siamo a un momento prima Che noi arriviamo In pratica Ok E lì c'è Una cesta Sarà Sicuramente La La mappa Sicuro eh E infatti Ma quindi mi stai dicendo Che ora è esplorabile Questa zona Prima del combattimento Forse sì eh O forse no Aspetta Non è ancora detto Certo è impossibile Che facciamo il combattimento Da soli eh Ah guarda lì Kairi Però è un ricordo Secondo me Non è quella vera E là E quell'artless Rosso Aspetta Aspetta Non lo vedo più Che sia l'artless Di Kairi Aspetta Potrebbe avere Strasenso La cosa eh È come quando Noi ci siamo Trasformati in Heartless In Kingdom Hearts 1 Magari ha senso Aspetta Eh Verso un cancello Che bello Con quel vestito Questa zona Eh sì Guarda Cioè voi non lo vedete Ma qua c'è un cristallo Con scritto Kairi Sono i frammenti Del suo cuore E beh certo È stata cristallizzata Giustamente Aspetta Sora Non Non sprechiamo Questa fusione Teniamocela da conto Perché se combattiamo Ancora contro Delle orde A quel punto È meglio usare Il Keyblade Classico Perché c'ha APM A AST Ok Siamo in un'altra Zona Addirittura Diversa E extra Wow Non me lo sarei Aspettato Devo essere sincero Vediamo Anche qui ci sarà Di sicuro La mappa Ovviamente E ce l'avete qua sotto Stavolta Vediamo Non penso che il Muguri Venda più nulla Ormai Cioè nel senso Non è che mi aspetto Niente Però va che bello Vederlo comunque Da un'altra Prospettiva Questa zona È figo Oh Nemici E il bello Che ci sono Sia Heartless Che nessuno Che nessuno Ci sono tutte le versioni potenti Tra l'altro Ok cambiamo ancora Keyblade Che questa fusione Ce la teniamo Ok ce l'abbiamo ancora Quella dell'ultima weapon Perfetto Minchia ma quanta zona Ci sarà da esplorare Guarda è una mappa enorme I can sense Kairi's Heart Over there Over there dove? Di qua? Perché dire over there Sora è un filino Riduttivo Cioè Over there è un po' In una zona così Enorme Un po' Un controsenso eh Patato Cioè capisco Che stiamo cercando Una roba importante Stiamo cercando Kairi Tutto quanto Però Over there Non vuol dire Un cazzo di niente Forse lì si trova qualcosa Sembra un luogo importante Vorrei saperlo anch'io Credo Aspetta Ah ho capito Perfetto Mi sa che il rosso Non l'ho messo bene Eh no Infatti non era messo preciso Eh no Di poco Ecco fatto E ora il verde No Di poco Dai Perfetto Ecco fatto L'immagine di scala Ed Kaelum E un altro petettino di cuore Quello forse E vai Ma che palle Vieni qua Che ti Ti devasto Santo cielo E piripiripiris Ora Allora Andiamo a cercare Il prossimo Mentre Mamma mia I martelli Veramente sono La trasformazione Che Meno mi è piaciuta Perché è vero Che sono Forti E tutto quanto Però Non ne valgo la pena Mentre i trapani Non mi dispiacciono Sono fighi Sono veloci E sono rapidi E soprattutto Fanno male Anche se Questo Keyblade Con sti suoni Maledetto A lui Rovina Tutta quanta L'enfasi Del momento Veramente Cioè Con i suoni Delle macchinine Dai Aspetta Le pillo Merda E niente Le tazze Peggio Che peggio Aspetta C'è un nemico No C'è C'è una roba Che cacchio Eh Oh Bello È un tracciato Di luce Che mi riporta All'inizio Ok Però c'è una cesta Qui Ci sono anche Delle ceste Da prendere Con un Megalisir Ok Credo che Allora Il prossimo Cristallo Si trovi Qui Fammi indovinare I droga Mmm Mmm Mi sembra Ecco Lo sapevo Devo farle funzionare Tutte e quattro Forse con Aeroga Dovrei Farcela Eh sì Con Aeroga Era la scelta Giusta Perfetto Non ce l'avremo mai fatta Senza Meno male Che bello Che comunque Il cliché solito Che appaiono i nemici Una volta che Attivi L'eventuale Oggetto Dove sei Eccoti qua Ecco fatto No A quanto pare No Sora Però qui C'è un altro Di queste Specie di Clessidre Vediamo Dove ci porta Questa volta Ci porta Sotto Queste scale Ok E queste scale Dove ci conducono A quello che penso Siano le fognature Di Queste sono le stesse Fognature Di Dark Soul 3 Praticamente Aia Bastardo Guarda che ti uccido Oh guardano lì Uno Ok Fammi indovinare Devo salire Da là in alto Ah Da qui Semplice Bravo Io stavo già pensando Di uscire Sora Bravissimo Qua c'è niente Non per me Peccato Allora E' più facile Di quello che sembrasse E qui abbiamo Una cesta Con una torta Di frutta Plus Bello che comunque Queste cose Ti danno Sia L'enigma Che anche La soluzione Comunque Ci manca Solo un pezzo No forse due Forse due Ce ne mancano Perché al centro C'è un altro buco So che voi Non lo vedete Eccolo lì Lì c'è un'altra Cesta E un'altra Di quelle specie Di clessidre Vediamo La gemma Aggressiva Meh Vediamo Dove mi porta Questa volta Mi farà Sicuramente Uscire E arriveremo Dove dobbiamo Arrivare No Stiamo andando Da tutt'altra parte Questo deve essere L'ultimo Dei punti Che stavamo Cercando Eccomi Tocco di classe Questo Ve lo devo Concedere Ve lo devo Concedere Questo Un ottimo Tocco di classe Doppia Fusione Vediamo Se posso Tenermela Da parte No Sora Volevo Cambiare Keyblade Non volevo Quel Keyblade Merdoso Per questa Scena Ottimo Tocco di classe Mettere il Darksider Bravi 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 No Abbiamo Completato Tutto il Cristallo Perfetto Tocco di classe Ol Sonos Tocco di classe